La cooperazione tra civili e militari può giocare un ruolo molto importante e determinante nelle operazioni di soccorso ma anche in prevenzione dei danni, dei disastri naturali ma anche quelli artificiali. Ed è proprio su questo tema e su tale importanza che convergeranno i temi che saranno disquisiti il prossimo 13 maggio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli organizzato dall'IDMA ovvero l'International Disaster Medicine Association e a raccontarci dei punti che saranno trattati in tale convegno abbiamo invitato quest'oggi il dottor Giuseppe Noschese che è presidente dell'IDMA. Buongiorno dottore, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Dunque un tema dedicato sulla importanza della cooperazione civile e militare. Spieghiamo al pubblico naturalmente, entriamo nel merito del convegno ma anche del tema che per l'appunto sarà oggetto di questo convegno il prossimo 13 maggio. Praticamente la cooperazione civile e militare si sta dimostrando negli ultimi anni un tassello fondamentale nel momento in cui ci sono degli accadimenti disastrosi. o di natura derivata dall'uomo o di natura ambientale, quale può essere un terremoto, un uragano, qualcosa del genere. Le vicende dell'Ucraina ci fanno tornare in mente le scene che quotidianamente noi vediamo in televisione e quindi ci troviamo in una situazione disastrosa per un evento natural man, vale a dire un evento dove l'uomo è una concausa principale. L'obiettivo di questo convegno che noi facciamo venerdì 13 maggio all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli è praticamente quello di fare il focus sulla collaborazione che oltre ai civili e ai militari può nascere anche dal volontariato e da altre associazioni. Tutti insieme abbiamo l'obbligo di formare dei soccorritori, intendendo per soccorritori sia personale medico che personale paramedico, quindi medici ed infermieri che se adeguatamente addestrati riescono a offrire un primo soccorso sicuramente di qualità rispetto al primo soccorso che anni addietro veniva dato. Lo ricordava lei uno scenario, questo è un tema delicatissimo ma molto attuale, ce l'ha dimostrato sia in primis la pandemia, oggi la guerra, la cooperazione civile militare diventa importante e determinante anche per salvare vite umane, in questo contesto, in questo caso il convegno si servirà per formare come ricordava lei i civili e per prevenire anche qualsiasi forma di disastro, in questo caso verranno proposti anche degli addestamenti non solo teorici ma anche pratici. Sì, ci saranno una serie di attività che daranno la possibilità agli intervenuti, ai congressisti di poter mettere in pratica delle tecniche di tipo rianimatorio, delle tecniche di primo soccorso che diventano fondamentali laddove per l'appunto si crea un evento disastroso. Questa cooperazione civile militare ha avuto il suo ACME recentemente con l'incarico che il generale Figliuolo ha avuto nel coordinamento della campagna vaccinale, si è visto che è stato sicuramente un momento molto importante per combattere il Covid e le sue varianti, si è riusciti a fare una vaccinazione di massa molto ma molto importante che è servita a mitigare sicuramente gli effetti della pandemia che non dobbiamo dimenticare, non è che sia del tutto scomparsa, anzi sta dando segni di una certa ritrosia ad andare via con le ultime varianti specialmente che abbiamo avuto modo di verificare sul campo. Senta, stiamo parlando dei vari tipi di disastri, abbiamo conosciuto, l'ha ricordato lei, quelli legati alla pandemia che ha allertato davvero tutti quanti noi quelli che riguardano il scenario bellico, però non dobbiamo anche dimenticare quei disastri che sono di tipo naturalistico e noi sappiamo che il nostro territorio, il nostro paese è esposto spontaneamente e naturalmente a tali tipi di disastri. In questo contesto che ruolo assume la cooperazione civile militare? È una bella domanda quella che sta facendo lei e che tra l'altro mi ha dato lo spunto per organizzare con i vertici dell'Accademia Aeronautica di Pozzoli un evento del genere in un'area che presenta un altissimo rischio, l'area flegrea per i fenomeni di braticismo e per questa energia del sottosuolo che ogni tanto dà segnali della sua presenza con scosse telluriche. Quindi poter avere del personale preparato, del personale idoneo in caso di una emergenza, ripeto naturale o causata all'uomo diventa fondamentale. La sede è stata scelta proprio per una strategia per poter fare il focus su quelli che possono essere i rischi naturali collegati a un'attività geologica del territorio dell'area flegrea. Grazie davvero per averci presentato quali saranno i temi al centro di questo convegno di cui ricordiamo l'appuntamento, ovvero il prossimo 13 maggio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzoli, un convegno organizzato dall'IDMA e ne abbiamo trattato i punti proprio con lei, ma al centro proprio la cooperazione civile-militare determinate appunto nelle operazioni di soccorso. Grazie al dottor Giuseppe Toschese per essere stato con noi. Grazie a voi. Pubblicità, restate con Mattina Live.